Se si desidera aprire manualmente una porta in ePassan Manager, iniziare facendo clic sul pulsante di monitoraggio, quindi fare clic sull'opzione Comandi manuali in alto. A questo punto, fate clic sul simbolo più accanto alla dicitura porte, quindi fare semplicemente clic sul pulsante Sblocca o sblocca permanentemente accanto alla porta che si desidera aprire, a seconda di quanto tempo si desidera che la porta rimanga aperta. Grazie